Ciao grazie, buongiorno. Allora, guardiamo il libro di Sergio Covelli. Ecco, eccolo, guarda. Buongiorno. Guarda anche a me questo libro, secondo me. Anche lo stesso? Sì. E guarda. C'è il libro di Sergio Covelli? Sì, eccolo qua. Ci sono rimasti qua, eccolo qua. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno di Sergio Covelli. Buongiorno, libro di Sergio Covelli. facciamo un gioco come l ecco e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.